Presenti 561, votanti 521, astenuti 40, maggioranza 261, favorevoli 365, contrari 156. Presenti 561, votanti 521, votanti 521, votanti 521, votanti 621, 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 votanti 6 La nuova legge elettorale, una legge elettorale che funziona, che garantisce governabilità e stabilità, che garantisce il risultato certo il giorno stesso delle elezioni, quindi una grande soddisfazione soprattutto per tutti i partiti che hanno lavorato per questo risultato e che hanno contribuito a questo risultato. Approvato alla Camera l'Italicum, la riforma della legge elettorale ha ottenuto 365 voti favorevoli e 165 contrari. Il testo definitivo è molto simile a quanto stabilito nell'incontro tra Renzi e Berlusconi, bocciati quindi gli emendamenti che prevedevano le preferenze, la parità di genere e il cambiamento delle soglie di ingresso in Parlamento. Tuttavia questa legge elettorale non ha né le preferenze né le quote rosa, la soglia è criticata, insomma critiche un po' da tutti, non si poteva fare meglio di più. Il diritto di critica non lo si nega a nessuno, una cosa è non condividere e altra cosa è dire che ci sono delle scelte per esempio in contrasto con le norme costituzionali. La Corte nella sentenza del 2014, la numero 1, ha detto con molta chiarezza che preferenze e piccole liste in piccoli collegi sono scelte costituzionali. Poi la politica sceglie l'una, sceglie l'altra, questo può piacere, può non piacere, ma certo non è difforme dai precetti costituzionali. Presidente, insomma questa legge elettorale che esce va bene così o dovrà essere modificata al Senato? Per noi grande soddisfazione rispetto all'esito finale, rispetto all'alto compromesso raggiunto, la compattezza di Forza Italia è stata determinante, non altrettanto si può dire del Partito Democratico. Comunque tutto è bene quel che finisce bene. Senta, non trovo invece un po' curioso che il Senato va a incidere su una legge che riguarda solo la Camera e che di fatto esclude il Senato? No, perché il Senato attuale è la seconda Camera, a tutti gli effetti parificata la Camera dei Deputati come dignità nel processo legislativo. Quindi è evidente che i senatori non faranno da notai o da passacarte. Quando sarà approvata la riforma del Senato è chiaro che le cose cambieranno. Onorevole, la legge elettorale esce dalla Camera, a proda in Senato un po' tutti però vorrebbero cambiarla su ITER al Senato. Voi cosa ne pensate? Anche il nuovo centrodestra la pensa esattamente in questo senso. Abbiamo votato con voto favorevole ma riteniamo che vada modificata al Senato sulle preferenze, sulle soglie, sul cosiddetto antiflipper. Troppi elementi ci sono ancora da risolvere e riteniamo che quella sia una grande occasione per perfezionare la legge elettorale. Naturalmente noi speriamo che venga modificato e profondamente modificato al Senato dove forse la ragionevolezza dei colleghi parlamentari più anziani può aiutare a fare una lettura più attenta. È un vero e proprio omicidio della democrazia perché crea un Parlamento fatto di nominati e non di eletti dei cittadini dove un capo, in questo caso Renzi o Berlusconi, decide e dà potere sui parlamentari e di conseguenza sul Paese. Non ci sono le preferenze e di conseguenza i cittadini ed il voto dei cittadini vale zero. I cittadini non contano nemmeno al momento del voto. Col voto di oggi alla Camera abbiamo voluto dare un segnale agli italiani, cioè finalmente cambiamo la legge elettorale. È un auspicio che era condiviso da moltissimi italiani e anche da scelta civica. Però tra i tempi della Camera che sono stati un po' frettolosi perché dovevamo darlo in fretta questo segnale e i tempi del Senato che saranno un po' più rilassati e dovranno prendersi tutto lo spazio necessario per migliorare la legge. È una legge che se non sarà corretta radicalmente al Senato finirà per allontanare ancora di più i cittadini. Magari i talk show saranno più affollati ma le urne saranno più deserte. Abbiamo soltanto prestato fede ad un patto che peraltro, verso il quale io tra l'altro ho votato contro perché la legge elettorale per me era invotabile perché annienta la regione Trentino Alto Adige. In questo momento in Alto Adige stanno succedendo disordini che mi preoccupano molto perché quando si schiaccia la democrazia questo è l'effetto purtroppo. Questa legge elettorale fa schifo perché ci sono ancora le liste bloccate, ci sono le quote di sbarramento alte, non ci sono le preferenze, tutti avevano detto prima vogliamo le preferenze perché il purcellum fa schifo, perché non è giusto.